Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu. La radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è martedì 15 luglio e la chiesa celebra la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della chiesa. Sono 6.689 i bambini abruzzesi con meno di 5 anni che nel 2013 hanno avuto bisogno di aiuto per poter semplicemente bere il latte oppure mangiare. Ben 1.316 in più rispetto all'anno precedente. Nel 2012 erano stati 5.373. Il dato emerge da un'analisi della Col di Retti Abruzzo sulla base di dati AGEA dalla quale si evidenzia il forte aumento degli indigenti in Italia, soprattutto tra i più piccoli. A livello nazionale, infatti, nel 2013 i bambini che hanno avuto bisogno di assistenza alimentare sono stati 428.587 con un aumento record del 13% rispetto all'anno precedente e comunque al di sotto di quello abruzzese pari al 24%. A settembre sono a rischio trasporti e assistenza scolastica. Lo hanno detto ieri i presidenti delle quattro province abruzzesi che si sono riuniti a Pescara per analizzare la situazione alla luce del disegno di legge del Rio che ha ridefinito il funzionamento e i compiti degli enti provinciali. Manca ancora un accordo tra Stato e Regioni che disponga sulla definitiva assegnazione delle funzioni e delle competenze tra i vari livelli di governo. I servizi di assistenza e trasporto ai disabili, in particolare, sono stati delegati alle province dalla Regione Abruzzo con la previsione di un contributo del 50%, ma negli ultimi anni anche il finanziamento regionale si è notevolmente ridotto. Un operaio di 47 anni è rimasto gravemente ustionato in un'azienda che produce pellicole in plastica adatessa. Ora è ricoverato all'ospedale di Chieti dove è stato trasportato da un elicottero del 118. Nello stabilimento, carabinieri e ispettori del servizio di prevenzione e tutela del lavoro dell'ASL. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio, con ustioni su oltre il 50% del corpo, sarebbe stato investito da plastica liquida fuoriuscita a 230 gradi da un tubo estrusore. Creare una grande riserva che abbracci tutta la costa adriatica. E questa è la proposta, per ora ancora da mettere a punto, che piacerebbe realizzare all'assessore ai parchi della Regione Abruzzo, Donato di Matteo, lanciata a margine della presentazione di estate 2014, programmazione, attività, eventi e manifestazioni della MPT, l'area marina protetta Torre del Cerrano. Dal 18 luglio, 7 chilometri di costa richiameranno l'attenzione dei turisti verso le bellezze naturalistiche e la salvaguardia del patrimonio faunistico, e non solo dell'area che si trova nell'AMP Torre del Cerrano. Per l'Abruzzo partirà da Silvi il mare, non vale una cicca, manifestazione nazionale che toccherà tutta la costa tiatina. Float House, ossia una casa galleggiante sul lago. Fiabesca è nello stesso tempo all'avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ecologica, dell'estetica e della tecnologia di costruzione. Il progetto, realizzato in Abruzzo dal Polo di Innovazione dell'Edilizia Sostenibile, è protagonista della prestigiosa mostra Eco Luoghi Progetti di Rigenerazione Urbana Sostenibile, inaugurazione venerdì 11 luglio al Macro di Roma, alla presenza del Ministro dell'Ambiente Galletti, del Ministro della Cultura Franceschini e del Presidente dell'Associazione Mecenate 90, organizzatrice di Eco Luoghi, Giuseppe De Rita. E torniamo alla cronaca. Fa inversione a U sulla Fondovalle Sangro e un'auto lo travolge. Un trentenne di Paglieta in provincia di Chieti è in prognosi riservata in neurochirurgia Pescara dopo un incidente sulla Provinciale 652 in località Cerratina di Lanciano. Al momento della manovra sopraggiungeva l'auto di un operaio della Sevella che andava al lavoro e che non ha fatto in tempo a frenare. Anche lui ferito ma solo con qualche contusione. Sul posto ambulanze e l'isoccorso del 118 e Polstrada di Lanciano. Due case dell'acqua a Spoltore, una a Santa Teresa, vicino al parco di Piazza Marino di Resta, l'altra nel parcheggio del campo sportivo. Presto un'altra in via Basilea a Villa Raspa. Basteranno 5 centesimi al litro per avere un'acqua controllata e trattata con sistemi di filtrazione e igienizzazione. Questi impianti consentono di potenziare l'uso dell'acqua di rete per ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica riducendo l'impatto ambientale, ha spiegato il sindaco di Spoltore di Lorito. È morto a causa di un batterio responsabile di una patologia cronica polmonare il delfino trovato in spiaggia a Pineto. L'esame necroscopico è stato eseguito all'Istituto Zoo Profilattico Terramano. Altri accertamenti sui campioni prelevati consentiranno di stabilire il tipo di batterio. Il delfino, un tursiope, è un maschio adulto di 9-10 anni, lungo 3 metri e pesante 300 kg. Un altro delfino fu trovato morto un mese fa a Silvi, ma non è stato possibile accertare le cause. Abbiamo deciso di annullare l'esibizione del cantante Manolo. Se l'artista non appartiene e non ha mai fatto parte dello storico gruppo dei Gypsy King, così come ci è stato proposto dall'Agenzia, allora verrà escluso dal cartellone delle manifestazioni estive del comune di Montesilvano. Lo ha detto il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ponendo fine alle polemiche generate in questi giorni intorno al cantante Manolo, che non avrebbe mai fatto parte della formazione dei Gypsy King. I costi delle manifestazioni del cartellone Vivi Montesilvano 2014 ammontano a circa 75 mila euro. La spesa include i costi per le manifestazioni, i diritti SIAE e i contributi per le iniziative ricreative sportive. Domani sarà celebrata la festa di Santa Maria del Monte Carmelo, presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, in via Monte Carmelo 85 a San Silvestro, a Pescara. In corso il triduo di preparazione che prevede alle ore 18 i Vespri, poi il Santo Rosario e la Santa Messa. Domani, questo sarà il calendario delle celebrazioni. Alle ore 8.30 la Santa Messa, alle ore 18 la celebrazione dei Vespri e quella del Santo Rosario e alle ore 19 la Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza, Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara, Penne. Potrà indossare lo scapolare il 16 luglio, quindi domani chi è preparato lo desidera e non l'ha mai ricevuto. Dal pomeriggio di oggi fino alla sera di domani sarà possibile acquistare una sola volta l'indulgenza plenaria del Carmine con la confessione, la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa, il Credo e il Pater. Ricordiamo che domani, dunque, la celebrazione delle ore 19, la Santa Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Pescara Penne, si terrà presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, in via Monte Carmelo 85, a San Silvestro, in Pescara. Oggi la direzione, la redazione e la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Guido Spadolini e siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono piogge schiarite al mattino, cielo poco nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, nubi sparse nel tardo pomeriggio e cielo sereno in serata con temperature da 21,5, 26,5 e venti moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente, Radio Speranza in Blu, è la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne e trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio alla microfono. Natascia, la parte tecnica è da tutti noi di Radio Speranza in Blu. Grazie per averci seguito e a risentirci. Grazie per averci seguito e a risultato.